Questo è un video di servizio da utilizzare esclusivamente per uso interno. Ciao! Ciao, sono Sergio Trama, Fisio Sport Italia. Se sei venuto a Fisio Forum mi hai sicuramente visto al Demo Center. Centinaia di persone, specialisti venuti da tutta Italia, i migliori allenatori. Che dire, sicuramente un'esperienza da ripetere. Sì Francesco? Fisio Forum 2017? Ci saremo di nuovo? No! Ciao!